Giornata storica non solo per la Sicilia, la Calabria, ma per tutta Italia. Dopo 50 anni di chiacchiere questo Consiglio dei Ministri approva il ponte che unisce la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa. L'opera più green del mondo, con 140.000 tonnellate di CO2 non più emesse nell'aria e acqua più pulita, lavoro vero per decine di migliaia di persone per tanti anni. Un'opera assolutamente sicura che verrà certificata dai più grandi ingegneri delle migliori università italiane ed internazionali e soprattutto un modello dell'Italia che ci crede, che cresce, che lavora. Stiamo sbloccando cantieri ovunque, avremo l'altra velocità in Sicilia, in Calabria e il ponte a campata unica più bello, più sicuro e più green di tutto il mondo.